benvenuti al tour immobiliare di oggi ci troviamo a boschi di cui anello pochi chilometri dal centro di regge mili in una zona collinare molto verde tranquilla la strada è chiusa e vi presento questa villetta abbinata del 1995 con il giardino su tre lati vediamoli insieme all'ingresso della casa appena rialzato troviamo questa bellissima veranda abitabile esposta a sud con la tenda da sole sulle quali è possibile consumare pranzi o colazioni venite con me guardiamo all'interno questa villa abbinata è su tre livelli e già al piano rialzato abbiamo tutto quello che può servire per viverla pienamente quindi abbiamo un ingresso un bellissimo soggiorno con cammino perfettamente funzionante una cucina abitabile e la zona notte che vedremo successivamente come vedete questa cucina è assolutamente vivibile e abitabile e esposta ovest quindi rimane molto luminosa non so voi ma è da tanto tempo che non vedevo delle camere matrimoniali così ampie sono assolutamente areose e spaziose sono due questa ha anche il balcone adesso vi accompagno nell'altra questa è la seconda camera matrimoniale molto molto silenziosa e vedete che si può arrivare con cassettone è un armadio molto grande e l'esposizione è est e di fianco abbiamo il bagno che faccio vedere guardate l'ampiezza di questo bellissimo ambiente abbiamo una zona giorno molto vivibile la mozzarella anche nel punto più basso e comunque ha presente un'altezza molto molto comoda la zona studio con attacchi per la cucina e questo bellissimo balcone esposto sud ovest e oltre al bagno che abbiamo appena visto in questa zona del soggiorno che adesso vedete di vita studio ci sono gli attacchi per un'ulteriore cucina immaginate di avere un figlio che inizia a diventare grande e giustamente vuole la sua autonomia questo potrebbe diventare tranquillamente un altro comodissimo appartamento indipendente questa casa non smette di stupirmi per l'ampiezza e gli ambienti veramente sono tanti e tutti gestiti davvero bene qui ci troviamo nella bella taverna anche questa con gli attacchi per un'ulteriore cucina e nella taverna abbiamo seguitemi la zona armadi vi saluto nel silenzio e la guida di questo giardino privato ricordandovi che la casa ha impianto d'allarme l'aria è condizionata e noi ci vediamo nel prossimo tour immobiliare grazie per essere stati con me grazie